ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati sull'angolo di claudia benvenuti vi da benvenuto anche salomone che spero che ci lasci un po di spazio per fare la nostra lettura allora volevo scusarmi con chi mi segue con gli iscritti anche con chi mi segue se non sono molto presente ma purtroppo ho ancora degli strascichi da covid e ho proprio dei momenti in cui non ho sono completamente priva di energie quindi mi dispiace se non sono molto presente se non faccio magari io prima facevo un video tutti i giorni adesso quando riesco lo faccio quindi chiedo scusa abbiate un po di pazienza che tornerò sicuramente più attiva ok allora detto questo io faccio un interattivo che a me piace molto ogni tanto lo faccio sulle 48 ore cioè cosa accadrà come energie e come accadimenti nelle prossime 48 ore ovviamente il video vale nel momento in cui lo vedete ok e adesso andiamo a vedere voglio prima di tutto prendere fuori un arcano maggiore e vediamo quale energia principale caratterizzerà le prossime 48 ore vediamo quindi nelle prossime 48 ore quale energia quale sarà l'arcano che caratterizzerà le prossime 48 ore wow il sole che meraviglia che meraviglia sono proprio felice allora beh il sole è l'esplosione di tutto ciò che ovviamente può riguardare un desiderio che si realizza può riguardare la manifestazione di qualcosa che magari attendevamo da tempo e comunque al di là di questo è un'energia super positiva sono sicuramente 48 ore caratterizzate da una grande positività ok anche perché se magari ci sono magari ognuno può avere dei piccoli problemi da risolvere però c'è una bellissima energia quindi è possibile che voi entriate nonostante tutto cioè magari nonostante problemi nonostante insomma a secondo ovviamente della propria situazione le prossime 48 ore ripeto dal momento in cui vedete questo video sono veramente belle o perlomeno c'è un'energia vostra ok molto positiva e che quasi non vi scalfisce mi verrebbe da dire e secondo me proprio c'è anche un'energia positiva anche attorno a voi perché comunque il sole è anche un qualcosa che si manifesta quindi c'è qualcosa proprio anche attorno a voi c'è della positività e andiamo a vedere adesso allora più nello specifico vediamo un po' allora questa è caduta e la prendiamo abbiamo la torre il nove di denari e di nuovo il sole no ragazzi mamma mia che meraviglia allora ragazzi qui c'è veramente devo dire per la devo dire rafforzato anche perché io uso due due mazzi no uno ovviamente solo con gli arcani maggiori e l'altro con tutti gli arcani quindi ci sono anche maggiori e minori lo faccio apposta proprio perché voglio vedere se viene rafforzato un qualcosa e qui è successo ed è successo con il sole quindi ragazzi qui le prossime 48 ore sono molto molto importanti perché lo dico perché abbiamo anche una torre seguito da un nove di denari e da un sole che cosa significa questo qui nelle prossime 48 ore c'è un qualcosa che improvvisamente si sblocca mi verrebbe da dire o che improvvisamente si realizza al di là delle vostre aspettative ed è un qualcosa di per voi meraviglioso perché qui abbiamo proprio il sole che viene fuori due volte quindi c'è la conferma nelle prossime 48 ore di una situazione che si va a risolvere mi verrebbe da dire per alcuni ok con questo nove di denari mi viene anche da dire che c'è per molti di voi c'è nelle prossime 48 ore la possibilità che ci sia un qualcosa che va a risolvere un come posso dire una situazione anche a livello di benessere economico qui c'è qualcosa che è veramente di molto bello per voi e devo dire con questa torre è qualcosa quasi di inaspettato forse alcuni di voi non si aspettano neanche più qualcosa che in realtà poi invece si manifesterà qui c'è qui ci sono delle energie stupende ragazzi ma veramente molto belle adesso prendiamo altre tre carte vediamo questa torre a che cosa si riferisce perché è uscita la torre però sono bellissime bellissime perché è uscita la torre abbiamo il 7 di denari perché è uscito il 9 di denari un 2 di denari quante denari qui è e poi perché è uscito di nuovo il sole aspettate perché facciamo così adesso che salomone si è spostato e noi lo ringraziamo ecco qua ok perché è uscito di nuovo il sole perché è uscito di nuovo il sole no ragazzi cioè 10 di coppe io non so veramente delle carte così allora allora calma e gesso dunque qui per alcuni di voi c'è perché qui ovviamente ci sono più messaggi per le prossime 48 ore un messaggio che è unico per tutti è che nelle prossime 48 ore c'è un'esplosione di positività e di qualcosa di bello per voi questo è fuori discussione ok poi per alcuni di voi ci potrebbe essere una non lo so qua mi viene da dire che c'è un qualcosa qui parlo ad ampio raggio poi ovviamente ognuno la cuce per la propria situazione però mi viene da dire che nelle prossime 48 ore succede un qualcosa di molto positivo che va a ripristinare una qui 10 di coppe d'accordo è la carta della felicità di coppia però io bisogna che diciamo vederla vicino alle altre carte no quindi potrebbe anche essere che per alcuni di voi ci sia un qualcosa di improvviso che può portare ad una un accadimento improvviso che può portare ad una rinnovata felicità di coppia però io qui più in generale ci vedo che qui accade qualcosa nelle prossime 48 ore che vi rasserenerà a tal punto che voi non lo so avrete una felicità una serenità si può interpretare anche questo 10 di coppe come una felicità familiare una serenità familiare quindi non per forza qui io la vedo come come una solo una felicità di coppia qui c'è una grande realizzazione di qualcosa ma soprattutto mi viene da dire con questo sole c'è una energia positiva che vi arriva da qualcosa che succede ovviamente che va un po' ripristinare forse una situazione che non vi dava più questo sole ok questa luce qui invece nelle prossime 48 ore avviene qualcosa che veramente vi 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 risolleva ma in maniera in maniera grande cioè ad ampio ad ampio spettro c'è qui c'è il sole per voi qui c'è il sole qui c'è un qualcosa o un qualcuno perché potrebbe essere anche che c'è un qualcuno che vi a me viene qui c'è c'è molto anche una 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 fatto di di economico ok qui c'è un qualcosa di economico è come che ci sia per alcuni anche un grosso affare non per tutti ovviamente io qui vi dico quello che mi arriva ok è come che qui si capovolga all'improvviso una situazione che magari non era in equilibrio vedete con questo due di denari e che però all'improvviso grazie magari a questa persona che è una persona benestante ok vi porta ad una felicità e ad una stabilità felicità e raggiungimento di un desiderio con il sole perché qui ragazzi ripeto abbiamo il sole due volte mi viene da dire che qui c'è qualcuno che nelle prossime 48 ore con o per un affare che va in porto o per qualsiasi cosa sia perché con questa torre può essere qualsiasi cosa ma questo qualcuno questa persona viene a portare veramente una grande gioia a voi qui c'è una gioia c'è una grande gioia c'è una grande una ritrovata se per caso non l'avevate prima o se no viene rafforzata serenità e per alcuni proprio addirittura felicità perché col sole il 10 di coppe ragazzi questo è proprio una felicità non bellissime bellissime queste energie delle prossime 48 ore sappiatemi dire se vi risuona qualcosa ovviamente magari è tutto all'improvviso quindi magari al momento non vi risuona niente però ragazzi queste sono parte molto molto belle molto 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 belle qui c'è qualcosa che all'improvviso si capovorge si cambia in molto meglio per voi ovviamente c'è qualcosa qui o qualcuno che vi riporta al sole vi riporta al sole e vi riporta una grande felicità wow che bello bene ragazzi io spero che questa lettura vi sia piaciuta anche se Salomone non ci ha dato molto spazio qui sul sul tavolo per chi non l'avesse fatto lo invito ad iscriversi al canale a cliccare sulla campanellina poi mi sono dimenticata anche di dire altre due cose che è ricominciato da settembre è ricominciato il corso di tarologia evolutiva ed intuitiva potete subentrare quando volete perché è fatto in modo che si può entrare in qualsiasi momento e altra cosa a proposito di desideri che si realizzano non so se conoscete il potere vibrazionale e di manifestazione dei sigilli se avete un desiderio particolare io trasformo questo desiderio nel vostro sigillo che poi voi porterete ovviamente addosso o comunque dove insomma poi ovviamente vi spiego in privato come avviene questa cosa ok? il sigillo ha un grande potere proprio vibrazionale di manifestazione del desiderio bene detto questo io veramente adesso vi saluto e vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao